orgoglio e pregiudizio di jane austen capitolo primo è una verità universalmente riconosciuta che uno scapolo in possesso di un buon patrimonio debba avere bisogno di una moglie questa verità è così salda nelle menti delle famiglie del vicinato che per quanto poco si sappia dei sentimenti o delle opinioni di quell'uomo dal momento del suo arrivo è considerato legittima proprietà dell'una o dell'altra delle loro figlie mio caro mister bennett gli disse un giorno la sua signora hai sentito che netherfield park è stato finalmente affittato mister bennett rispose di no beh è così replicò lei mrs long è appena stata qui e mi ha raccontato tutto mister bennett non rispose non vuoi sapere chi l'ha preso in affitto esclamò la moglie spazientita tu vuoi dirmelo e io non ho obiezioni come incentivo bastava allora mio caro devi sapere che da quanto dice mrs long netherfield è stato preso in affitto da un giovane dell'inghilterra del nord con un bel patrimonio che costui è arrivato lunedì con una quadriglia per vedere il posto e gli è piaciuto così tanto d'accordarsi subito con mister morris che ne prenderà possesso prima della festa di san michele e che parte della servitù arriverà entro la fine della prossima settimana come si chiama bingli è sposato scapolo scapolo mio caro naturalmente uno scapolo molto ricco quattro cinquemila sterline l'anno che splendida notizia per le nostre ragazze perché cosa c'entra con loro mio caro mister bennett replicò la moglie come puoi essere così irritante devi ben aver capito che mi riferisco al fatto che potrebbe sposare una di loro si stabilisce qui a questo scopo scopo che assurdità cosa ti salta in mente ma è molto probabile che si innamori di una di loro e quindi dovrai fargli visita non appena arriverà non vedo perché potete andare tu e le ragazze oppure puoi mandarle da sole soluzione forse migliore visto che sei attraente quanto loro mister bingli potrebbe preferire te alle altre mio caro tu mi lusinghi ho avuto la parte di bellezza ma non pretendo di essere nulla di eccezionale ora quando una donna ha cinque figlie ormai grandi dovrebbe smettere di pensare alla propria bellezza di solito questo accade quando una donna non ha molto di cui preoccuparsi ma mio caro devi assolutamente andare a far visita a mister bingli quando diventerà nostro vicino credimi è un incarico che non intendo assumermi ma pensa alle tue figlie pensa solo a che sistemazione sarebbe per una di loro se William e Lady Lucas hanno intenzione di andarci proprio per questo motivo perché lo sai che di solito non fanno visita ai nuovi arrivati quindi devi proprio andare perché in caso contrario per noi sarebbe impossibile ti fai troppi scrupoli credo che mister bingli sarà ben contento di conoscervi e io vi affiderò qualche riga da consegnargli per assicurargli il mio più sincero consenso al suo matrimonio con qualunque delle nostre figlie voglia scegliere anche se credo che spenderò una buona parola per la mia piccola Lizzie preferirei che non facessi nulla del genere Lizzie non è affatto meglio delle altre sono certa che non è bella neppure la metà di Jane e non ha la metà del bel carattere di Lydia ma la tua preferita è sempre lei non c'è molto da raccomandare in nessuna di loro rispose lui sono sciocche e ignoranti come tante ma Lizzie ha un po' più acume delle sorelle mister Bennet come può insultare le tue stesse figlie in questo modo ti diverti a tormentarmi non hai pietà per i miei poveri nervi mi fraintendi mia cara ho un grande rispetto per i tuoi nervi siamo vecchi amici sono almeno vent'anni che te li sento minzionare con grande considerazione non sai quanto soffro ma spero che sopravviverai così a lungo da vedere tanti giovanotti con 4000 sterline l'anno trasferirsi nel vicinato non vedo come potrebbe esserci utile se anche se ne arrivassero 20 dal momento che non vuoi far loro visita puoi essere certa mia cara che quando saranno 20 andrò a trovare ciascuno di loro mister Bennet era un tale bizzarro connubio di intelligenza sarcasmo riservo e capriccio che 23 anni di esperienza non erano bastati alla moglie per capirne il carattere la mente di lei era più semplice da leggere era una donna di scarso giudizio poca cultura e temperamento mutevole quando era contrariata da qualcosa si immaginava vittima dei nervi lo scopo della sua vita era maritare le figlie il suo conforto i rapporti di buon vicinato e i pettegolezzi no